Vediamo come depositare una memoria 183 usando Netflix in pochi semplici passi. Dal menu pratiche cerchiamo la pratica che ci interessa. Una volta trovata ci clicchiamo sopra. Nel menu pratiche andiamo nel sottomenu documenti e attraverso il carica documenti importiamo all'interno della pratica la memoria che vogliamo depositare. La cerchiamo all'interno del nostro computer. Ci clicchiamo sopra e facciamo apri. Il sistema importerà il file all'interno della pratica e saremo pronti per il deposito telematico. Clicchiamo su deposito telematico. Nuovo deposito a destra. Verifichiamo che queste condizioni siano tutte bianche, ossia non ci sia nessun errore evidenziato e clicchiamo sì, ho verificato, vai al deposito. Come prima cosa identifichiamo il ruolo del deposito che stiamo facendo, in questo caso generale degli affari civili contenziosi. Come atto per depositare basta scrivere qualche lettera e il sistema ci viene in aiuto, quindi memoria 183 numero 1. Andiamo avanti. volendo si può determinare l'urgenza del deposito e aggiungere una breve descrizione del deposito che stiamo facendo. Andiamo avanti. Qui possiamo indicare nuovamente la parte e la controparte, è una cosa non necessaria in quanto in questo tipo di depositi le parti sono già state indicate. All'interno di questo quadro possiamo indicare il testo della domanda o delle conclusioni come riportate nell'atto che stiamo depositando e qui sotto indicare se stiamo depositando un'istanza ex articolo 186 bis o 186 ter. Andiamo ancora avanti e selezioniamo il nostro allegato. Basta cliccare qui, indicare a Netflix che questo è l'atto principale del deposito e andare avanti. Il riepilogo di quello che stiamo depositando e poi basta cliccare su firma documenti. Verrà richiesto il PIN della vostra firma digitale. Netflix procederà alla firma del documento e preparerà la busta per essere spedita. Il deposito è pronto. Per spedirlo basta premere Crea busta e spedisci.